Ciao ragazzi, stiamo andando a Goro con il buon Tiero Velaro e stiamo andando a Goro a farci un'uscita con un'imbarcazione che molti di voi conosceranno bene che è il Batmami mi raccomando, vedo che molti di voi non sono ancora iscritti al canale e questa è una cosa molto importante per noi quindi iscrivetevi e lasciateci un like e condividete commentate anche i video di cosa volete vedere esatto, e questo a noi fa molto piacere e ci aiuta anche ad andare avanti a portarvi questi video di qualità ragazzi, a dopo ci siamo fermati per un piccolo refill, ovviamente ecco C'è una lì gente che c'è qui che fa questa pesca qua, è pieno? Ieri c'era un 100 bar, eh sì? Ok, riparti, riparti, devi ripartire, guarda ci abbiamo avuto tutto più dietro Sì o no? Tutte e due dietro ce l'avevate, vi fermate un secondo Cos'è che mi dicevi che do le cercate? Proprio rilineare, il filo è a 90 gradi, poi fate un bel lancio quando ho avuto in casa, non vi fermate le cercate, guarda Ok 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 Flash Ecco lì, davanti noi, davanti noi Eccolo, visto? Vai via! Vai via 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 Oggi che vai via 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 motivational Eccolo ce l'ho, ce l'ho, sto matto vai, puntatela subito qua ah, cazzo ah, fanculo prendete bene di mira la mangianza e ci lanciate oltre oltre, ma superandola in mezzo, perché dovete passare bene pure l'ho ferrato, beh che sputtano gli ami con una facilità, cazzo forse là, 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 là sparito dove? dove? è là, è là leggermente a nord dell'agostino, siamo qui al miglio dell'agostino siamo qui, comunque è una comunità là, là, là qua 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 è è è è è è è è è Grazie. Oh. Oh. Io sono arrivato. Ti vedi a durare? Ti vedi la barga che ti porta, sei tu? Oh, ci tieni lì più avanti. Ehi, sono il primo. Sono il primo. Sì, no, anch'io mi chiamo. Allora, fino a dentro, fino a avanti. No, 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 dietro, 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 dietro. Guarda, guarda. A livello grosso, sì. Andando in un affotto alzato. V***e, che bossa. che botta che ho preso non ci credo ma ha rotto un'altra volta ma che cazzo ma non è possibile ma non è possibile ma l'ho testato adesso si non è che ti mangia la fanno entrare in pesca eccolo ce l'abbiamo ci sono sotto bello guarda questa che va io fai un video all'inizio qua quando arrivo qua eh un video all'inizio qua c'è quello di là capitano ci siamo? ci siamo ci siamo dai bastia ci siamo diciamo ci siamo stiamo in è incontro o vedi giù la gara? no, va a fare molto va a fare va a fare di là vedi, vedi, vedi vedi, vedi, vedi va a fare di là vedi, vedi, vedi vedi qua vedi là vedi bestiola Luca, amico, ti cambio si, vieni, fabrik mi ha risultato perché aspetta ma guarda, ma guarda un po' non so di che colori che ha guardami, salivi dentro tu, eh eh? più o meno cazzo anche là orora proprio ciao 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 non c'è niente tu le hai sulle belle qui ne abbiamo rotto uno due rotti due rotti e tutti con quello col crea l'ursa lì è 130 3 col 110 un po' più piccole e poi 2 col 110 sì, solo che sono velocissime c'è un secchio prima volta che voliamo singolo ho preso da fuori ma è successo ciao 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 che palle qui qui è qui 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 non li ho visti non li ho visti c'è un po' di minuto adesso vediamo se riesco a fare un po' di selezione eccolo doppio veni qua veni qua no ha mollato no ecco vieni vieni qui ce l'hai ce l'hai recupera recupera vediamo certo vediamo a vediamo non vediamo qua qua Prendime anche il mio telefono, se vuoi in tasca. Cosa che hai, stai in canna? Certo a netto! Eccoli! Qua sotto, eccolo qua si è! Vai qua eh! Vai da l'altra, vai da l'altra! Qua! E' qua! Ali! Si! E' qua! E' qua! E' qua! E 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 qua!